ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video speriamo che si senta bene e che la registrazione stia venendo con successo bene come vedete il grafico di bitcoin sembra non aver subito colpi dopo la dichiarazione proprio dismentita da parte di amazon per quanto concerne i progetti sulla blockchain su bitcoin o sulle cripto in genere vedete come subito sulla smentita dei progetti legati a bitcoin che sembra una sorta di conferma in realtà ma vediamola proprio sul grafico abbiamo che a candela oraria avuto alle ore 20 di sera del 26 di luglio una caduta dal prezzo proprio limite 39.469 verso il valore minimo a circa 37.300 poi è sceso leggermente verso i 36.300 adesso è risalito e sta attualmente risalendo a 38.200 quindi non ha praticamente risentito nulla il prezzo di bitcoin ma perché in realtà ciò è avvenuto è avvenuto perché in realtà amazon pensa ai pagamenti in bitcoin perché ha assunto un esperto in blockchain e in criptovalute quindi nei piani di amazon e comunque ve lo dico su tutte le piattaforme online come netflix disney tutti avranno un loro token proprietario con cui concedere eventualmente anche sconti nel suo utilizzo ed è ovvio che con tutti i clienti utenti che hanno queste aziende come amazon è il loro interesse avere un loro token proprietario da far crescere nel tempo così come lo sarà anche nelle piattaforme di gaming avere un proprio token proprietario e realmente anche degli nft da vendere questo è la base di tutto il concetto legato al fatto che il prezzo non ha risentito assolutamente di questa discesa ma oltre a tutto ciò andiamo a verificare anche ethereum inter vedete come sta continuando a salire sta postando 2300 dollari di prezzo quindi a livello di candela oraria si ha risentito sicuramente proprio in corrispondenza delle ore 20 di sera del 26 di luglio ma poi ha ripreso in corrispondenza proprio del valore mediano di questo valore di supporto a cui ha cercato anche di mantenersi e lo ha fatto anche a candela oraria in modo direi pregevole veramente vedete il supporto è stato mantenuto nell'intorno di questo range di prezzo come potete osservare per quanto riguarda invece iter contro bitcoin sta risalendo leggermente la il prezzo di iter contro bitcoin quindi sta postando abbastanza bene e sta cercando di ritornare verso su adesso io giustamente cercherò di andarvi a introdurre la media mobile a 200 periodi anziché quella 68 che sapete l'avevamo discusso in una precedente analisi video ma comunque sia la 200 periodi a candele vediamo giornaliere come si pone il grafico andiamolo a sistemare ecco ci troviamo comunque al di sopra iter bitcoin della media mobile a 200 periodi quindi nulla è cambiato il trend al massimo e laterale ma tra la coppia da iter e bitcoin qua si tratta di un supporto che è andato più volte a essere testato una contrazione dei volumi che imposta sempre degli hacker sempre più low vedete come va a scendere quindi questo è un flag di continuazione del mercato dato da una compressione del prezzo quindi questo è tutto oltretutto anche i volumi vedete non ci sono mai stati volumi così alti rispetto ai precedenti soprattutto se parliamo di bullish ma questo naturalmente è da analizzare anche visualizzando per esempio la coin market cap e quindi anche la dominance ma per farciò non ci sono anche problemi possiamo direttamente fare market cap direttamente sulla su trading view bitcoin vedete dominance come si pone la dominance di bitcoin sta tentando di ritornare al valore intanto è a 48.02 la dominance di bitcoin e quindi sta cercando di andare a ritestare di nuovo la media mobile in questo caso esponenziale EMA ha 200 periodi ma tutto questo naturalmente è indicativo del fatto che sta riprendendo una certa forza la diminuzione legata comunque a una perdita di prezzo sarebbe stata negativa se la dominance di bitcoin dovesse scendere ma il prezzo continua a salire e va a ritestare questa media mobile il tutto potrebbe essere anche molto positivo per il discorso legato al coin bene per quanto riguarda invece ulteriori altre notizie che potrebbero essere sicuramente di vostro interesse andiamo a vedere da un punto di vista on chain su CryptoQuant dove in viola possiamo notare direttamente al grafico daily il fatto che la montata dei bitcoin detenuti su tutti gli exchange wallet il numero naturalmente sta incrementando e questo significa che un incremento di bitcoin nella fornitura di tutti gli exchange per eventuale vendita non lo è perché in viola noi notiamo proprio che la riserva sta diminuendo quindi il prezzo può solo che salire dall'altro canto quindi questo è sicuramente un dato positivo del fatto che diminuiscono i bitcoin detenuti all'interno degli exchange abbiamo che i bitcoin su tutti gli exchange come net flow quindi flusso netto di entrata e uscito è negativo e sapete che se fosse positivo allora questo incremento di bitcoin all'interno degli exchange significa per poterli vendere se gli exchange hanno una diminuzione perché vanno a fuoriuscire bitcoin dagli exchange che vanno verso unknown wallet quindi wallet sconosciuti di solito i cold wallet questo è positivo per il prezzo e quindi non per la vendita ma perché vogliono detenerli quindi una scarsità che va ad incrementare il valore di bitcoin andiamo naturalmente su un altro sito del blog crypto.com che posta naturalmente che spotify e sta partendo sta iniziando per permettere al suo e-commerce di utilizzare per i propri clienti la vendita di nft quindi non fungible token direttamente e quindi questa è un'ulteriore notizia bullish per quanto riguarda le crypto ma anche il comparto nft. Per quanto invece riguarda Goldman Sachs Files con la SEC sta discutendo dei documenti con la SEC per creare un ETF equity sul DeFi sulla blockchain quindi ulteriore info né news né positiva che comunque ci fa intendere che tutti questi discorsi legati a notizie che poi vengono anche smentite sono soltanto anche di tipo speculativo magari nel breve termine che non ha effetto comunque sul prezzo di bitcoin o iter o sulla sua dominance andiamo a vedere naturalmente per quanto riguarda su go charting l'effetto di bitcoin dollaro per quanto riguarda il gap di Coinbase ma poco cambia alla fine vedete comunque che il prezzo sta ritentando di ritestare i massimi a 40.580 e superati questi vedete che qui c'è un vuoto volumetrico i voti volumetrici vanno ad intendere che poi il prezzo potrebbe arrivare intorno ai 50.000 se viene rotta il limite dei 41.000-42.000 come vi avevo anche detto in precedenza nei precedenti video se mi seguite e naturalmente per questo soltanto per questo vi ringrazio e spero anche in un vostro like spero ulteriormente che anche i problemi audio si siano risolti ho dovuto sistemarlo scusate purtroppo impegni lavorativi non mi permettevano di sistemarlo e non mi sono accorto neanch'io ma spero che il problema non capiti più naturalmente ci risentiremo per un aggiornamento flash speriamo che vada sempre più su e che quindi ci sia anche la possibilità di avere delle strategie un po' più semplici rispetto a quelle nel mercato bearish che sono un po' più complesse naturalmente rispetto al bullish grazie ancora dei vostri like a presto ciao